Hama, Siria, 22 marzo. Un caro armato avanza verso il centro della città. Viene travolto da un'esplosione al grido di Allah è grande. L'esercito siriano libero lo ha colpito. Scene di guerra civile che nel paese si ripetono da un anno e che hanno prodotto oltre 8.000 morti. Un'altra città, Homs, un altro video dei ribelli. Le strade devastate dai bombardamenti dell'aviazione dell'esercito siriano sono trincee da difendere. Altri 20 morti nel primo venerdì del secondo anno di rivolta. Gli scontri tra i ribelli e l'esercito siriano sono in corso da giovedì sera anche nel nord, poco lontano dal confine con la Turchia, dove oltre 17.000 civili hanno fortunosamente trovato riparo. Nel resto del paese si moltiplicano le manifestazioni di protesta. Idlib dirà Aleppo, Damasco. L'obiettivo è lo stesso da 12 mesi, chiedere le dimissioni del regime.